ben trovati da web salute vivox e benvenuti al nostro consueto appuntamento mensile in prossimità della stagione invernale abbiamo pensato di realizzare una giornata di approfondimenti dedicata ai virus stagionali ma non solo ai farmaci scudo per farlo abbiamo avvicinato alcuni tra i principali esponenti della comunità scientifica italiana vi auguriamo buona visione e vi diamo appuntamento al mese prossimo sempre su web salute la sana informazione corre sul web